Gianni Colacione per LibriTV, oggi è 5 aprile 2014, stiamo in una storica sezione del PRI per i più giovani, diciamo il Partito Repubblicano Italiano, a Roma, in zona Testaccio, una sezione intitolata a Giuseppe Cerquitti e siamo in compagnia di Niccolò Rinaldi, Niccolò Rinaldi ad ora vicepresidente dell'Alde, parlamentare europeo e ovviamente parliamo di Europa, parliamo di elezioni europee, si è chiusa la lista italiana per l'Alde che si chiama scelta europea, è stato in un certo senso un travaglio non semplice, vorrei partire da questo con Niccolò per sintetizzarci quali sono stati gli emetti decisivi che hanno sbloccato e chiuso questa lista. Ciao Gianni, buongiorno a tutti, questa è nata come lista da diversi mesi, ci stiamo lavorando, con l'ambizione di rappresentare nel sistema partitico italiano quella famiglia che in Europa è la terza per taglia, che è la famiglia liberal-democratica che tra le sue caratteristiche ha una forte caratterizzazione sui diritti civili e sull'europeismo. L'Europa è basata su un'articolazione di famiglie in realtà molto più semplice rispetto a tutti i movimenti italiani che sono sempre molto complessi da decifrare, su cui c'è un partito socialista, un gruppo popolare, la famiglia liberal-democratica, il gruppo dei verdi, la famiglia ambientalista, la sinistra radicale, basta, sono queste cinque famiglie, più poi una galassia non strutturata, non organizzata, né in partito né europeo né in altro, di anti-europeisti, regionalisti, sovrazionisti, nazionalisti, euroscettici e via dicendo, che ha varie articolazioni. L'Italia ha sempre riflettuto molto poco sul distacco che c'è tra il nostro sistema partitico da una parte e appunto le famiglie politiche europee che invece sono comunque dei poli di riferimento preciso. Renzi questo forse mi pare che l'abbia colto quando ha deciso molto rapidamente col suo piglio decisionista di portare il Partito Democratico dentro il Partito Socialista europeo, il Partito Democratico faceva parte di queste anomalie, cioè era una sorta di limbo né carne né pesce, per certi aspetti è paradossale che sia stato un non di sinistra e un non socialista come Renzi ad aver fatto questa operazione, però quella è una loro dinamica. Ma in Italia c'è sempre stata poi una presenza culturale e politica variegata, ma sempre molto vitale, ancorché minoritaria, di famiglie, di soggetti, di personaggi, di fondazioni, di associazioni, di pensiero che ha sempre guardato ai liberal democratici e riformatori europei, perché questa è poi l'addizione completa, come appunto il riferimento, l'interlocutore in Europa. E qui non è un caso, voglio dire che oggi siamo stati ospitati in una sezione del Partito Repubblicano perché tutto il movimento mazziniano e tutta la diaspora anche poi repubblicana ha sempre guardato all'Alde appunto come alla propria famiglia di appartenenza, così come il mondo radicale, il mondo liberale. In previsione delle elezioni europee abbiamo fatto qualche cosa che probabilmente in Italia nessuno ha mai provato a compiere, vale a dire anziché fare tipico della politica romana chiudersi in un paio di stanze delle segreterie nazionali di uno o due partiti e fare un'operazione come dire di vertice, con Giverostat abbiamo pensato di aprire proprio un tavolo a cui sono stati invitati tutti i soggetti che in Italia guardano appunto alla liberal democrazia europea, piccoli o grandi, di antica tradizione e quasi voglio dire una sorta di orgoglio identitario o anche approdati invece più recentemente, molto strutturati o anche più basati su fondazioni o un'attività che è meno politica ma più di studio e di riflessione. Ponendo il tema che non è soltanto quello ci presentiamo alle elezioni europee, vogliamo fare questa scommessa, ma come organizzare questo mondo che culturalmente è sempre stato vitale ma politicamente diviso, personalismi, piccinerie a volte, incertezze, ospiti che sono transitati nel mondo liberal democratico, hanno preso un treno poi sono scesi a un certo punto, in modo che finalmente la presenza di quella che è la terza forza europea, perché l'Alde in Europa è la terza forza, possa avere anche in Italia una sua organizzazione e un suo modus operandi. Alcuni hanno sposato subito questo tipo di metodo e hanno accettato di entrare dall'inizio nella squadra, altri hanno avuto, come penso sia del tutto legittimo, il proprio bisogno di maturare alla decisione, di confrontarsi, anche perché poi in Italia ci sono coloro che si definiscono liberal democratici in un modo molto netto, poi ci sono partiti politici che hanno componenti liberal democratiche, ma magari hanno anche altre componenti, per cui devono raggiungere un equilibrio interno. Alla fine, con questo tavolo, che ripeto è stato un tavolo molto aperto, dove nessuno era escluso a priori, abbiamo raggiunto questa bella cosa, che è la prima volta in Italia abbiamo una proposta partitica elettorale basata su un riferimento direttamente europeo, che da una parte è quello dell'Alde e dall'altra parte è quello della candidatura che l'Alde ha fatto tutta Europa di Giverostat alla presidenza della Commissione. Per cui questa scelta europea è scelta europea per Giverostat, proprio perché anche su questo vuole innovare, inserisce il nome del candidato alla presidenza della Commissione sul simbolo, in modo che l'innovazione del Trattato di Lisbona, che fa sì che votando un proprio partito si vota anche il candidato alla presidenza della Commissione, sia una cosa trasparente, sia chiara. Soltanto la lista di Tsipras in Italia ha fatto questa scelta, gli altri continuano, non dico a ingannare gli elettori, ma certamente a non essere del tutto trasparenti nella loro comunicazione. Voti questo e non voti soltanto PD, voti anche il candidato tedesco socialista Martin Schulz, voti alla presidenza della Commissione, voti Forza Italia o voti Nuovo Centrodestra e voti Jean-Claude Juncker, lussemburghese alla presidenza della Commissione e via dicendo. Quindi questo secondo me è una bella cosa per tutti noi, perché introduce veramente un modo di fare diverso rispetto alle nostre prassi. Tra l'altro io sono ovviamente di parte, però sono intimamente convinto che Giverostat sia proprio il migliore dei candidati alla presidenza della Commissione. Abbiamo cinque candidati che se la giocano e non è detto poi che quello che arriva prima sia necessariamente il candidato, perché poi bisogna vedere se ha la maggioranza assoluta o se deve fare un accordo con altri candidati, quindi la partita è anche più aperta di quello che si pensa. Ma Giverostat è proprio quel tipo di candidato che per provenienze di Paese, per preparazione intellettuale, per militanza politica, per il suo DNA molto progressista e molto federalista, ma anche sempre molto, molto, molto insofferente verso la coalizione al potere di Berlino, verso la Commissione di Barroso, per valori, perché poi è proprio un liberal democratico progressista che mette i diritti civili al centro del suo pensiero e sia proprio il candidato di cui avremo bisogno per i prossimi cinque anni. Tra l'altro è anche uno che ha la sua seconda residenza in Italia, quindi conosce molto bene la politica italiana, il nostro Paese, parla bene l'italiano, anche questo tutto sommato non guasta. Perfetto Nicola, mentre tu parlavi appunto di questi gruppi abbastanza eterogeni che compongono questa lista, mi è venuta in mente una domanda da farti, che accorpo con quella che avevo già in previsione, così la facciamo diventare una sola. Allora, volevo chiederti, secondo te, nella chiusura, diciamo, questa lista, ha avuto una certa influenza la previsione, quella che è in previsione, che è in discussione, che dovrebbe essere approvata, la nostra legge elettorale nazionale? Perché, insomma, lì ci sono anche delle, individualmente, adesso si prevedono, insomma, degli sbarramenti, partiti, gruppi che difficilmente potranno entrare. Ecco, io ti chiedo se può avere avuto un'influenza, secondo te, e poi, se, dati appunto questi gruppi, vedo che però non ci sono dei gruppi storicamente liberali, come il Partito Liberale e i Radicali. Ecco, volevo chiederti la tua opinione su questo, perché non ci sono. Dunque, io ti contesto la definizione gruppi eterogenei tra di loro. È vero che sono gruppi diversi, perché hanno aderito a questo progetto, fermare il declino, fare per fermare il declino, il Centro Democratico, Scelte Civiche, il Partito Repubblicano Italiano, il Partito Federalista Europeo, il Movimento dei Conservatori Sociali, poi tutta una serie di altre associazioni e fondazioni. Ma, come soggetti politici, questi sono. Ed è vero che sono esponenti diversi, anche percorsi distinti, però non sono più eterogenei nel momento in cui, uno, hanno sottoscritto un manifesto, che devo dirti anche abbastanza dettagliato dal punto di vista programmatico, che è il manifesto comune a tutti, per cui non è che ognuno porta, come dire, un'agenda politica distinta. E poi, forse sono eterogenei per le logiche tutte italiane, ma, ripeto, sono coloro che in Italia si considerano parte dell'alleanza dei liberali e democratici per l'Europa. Perché questo è un dato comunque comune. Magari noi siamo un po' abituati a considerare la famiglia europea di appartenenza, come dire, un optional o una cosa che magari ci unisce, ma che è secondaria. No, no, ecco, cerchiamo di ribaltare questo concetto. Forse quello è un dato molto, ma molto più comune, aggregante, di quanto magari siamo abituati a pensare. Tu mi chiedi se la legge elettorale ha avuto una conseguenza, quella che si sta preparando appunto per le elezioni nazionali. Ma, francamente, non credo, guarda, perché la legge elettorale che si sta preparando, secondo me, è orribile, perché pone una sbarra di accesso per coloro che non si vogliono aggregare al partito forte, che è dell'8%, 8,5%, cioè soltanto in Turchia e in Europa c'è qualcosa del genere, che è il 10%. Quindi non mi pare molto democratica. Però le forze politiche che, come diranno, hanno paura di questo tipo di sbarramento, sai che cosa fanno in genere? Bussano alla porta del potente di turno, negoziano qualche posto nel Partito Democratico, qualche posto in Forza Italia, si organizzano in questo modo, tanto più che proprio quel tipo di progetto di legge elettorale favorisce questo tipo di meccanismo, perché bisogna arrivare comunque, possibilmente, al 37,5%, mi pare che adesso sia questa la soglia per avere la maggioranza assoluta dei seggi e via dicendo. Certo, in un sistema che fossimo tornati al proporzionale puro, forse non ci sarebbe nemmeno l'incentivo ad aggregarsi, però ho l'impressione che il processo poi di riorganizzazione per le elezioni nazionali non sia stata veramente una motivazione per partecipare attivamente a questa lista dell'Alde. Magari poi avrà una conseguenza forte, perché se questo tentativo avrà successo, diventa sicuramente un soggetto poi politico nazionale che se la giocherà alle regionali, alle legislative e quant'altro. Ma, tra l'altro, tutta la discussione sulla legge elettorale, anche se quello che sta per essere scodellato più o meno lo si capisce, ma è ancora così complessa, così legata ad altre riforme, che forse nessuno poi è veramente sicuro che si debba adesso prendere una decisione sulla base di elementi che non sono ancora acquisiti. Alcune forze sono rimaste fuori da questo accordo. Liberali e radicali. Partito liberale. Partito liberale e il partito radicale. Boh, guarda, tutti sono stati invitati. Partito radicale e radicali italiani, io tra l'altro sono iscritto da tantissimi anni, insomma da più di vent'anni al partito radicale, quindi mi considero a mio modo, credo di essere oggi forse l'unico parlamentare europeo iscritto al partito radicale, mi considero comunque già una componente radicale all'interno di questo. Ritengo che tu lo sia, innominatamente. Sì, ma a me è dispiaciuto molto che nonostante ci sia stato un lungo percorso di partecipazione, tra l'altro molto propositiva, molto attiva, dei radicali italiani a tutte le discussioni della lista ALDE, che poi a un certo punto sia stata presa una decisione basata su un punto, su un'opinione che è assolutamente legittima, ma che, insomma, ecco io su questo sono un po' in disaccordo, cioè dire tutto sommato, in Italia le condizioni di democrazia non sono sufficientemente tali da garantire uno svolgimento, una rappresentanza piena, insomma, delle elezioni e quindi non vale la pena presentarsi alle elezioni nazionali. Cioè quello che a un certo punto è stato detto, papale papale, a Giverostato, noi siamo con l'ALDE in 27 paesi europei, lo saremmo anche in Italia, lo siamo poi, lo siamo come radicali rispetto alla lista dell'ALDE, cioè la nostra simpatia, va lì, però non ci sentiamo di partecipare attivamente con i nostri candidati o altro, perché non ci sono le condizioni di democrazia sufficienti. Questo è un peccato, però l'invito poi anche ad Emma Bonino a essere candidata è qualcosa che continueremo a fare fino all'ultimo giorno, un po' utile prima del deposito delle liste. Un po' diverso è stato il percorso degli amici del Partito Liberale, che anche loro sono stati parte completa, voglio dire, di questo processo, ma a un certo punto hanno pensato, legittimamente, che tutto sommato il fatto che non ci fosse un'unità, anche rispetto a scelta civica, di questo percorso, di questo progetto, non fosse sufficientemente motivante o non caratterizzasse sufficientemente rispetto alla loro concezione di identità liberale questo progetto. Con il rientro di scelta civica, che appunto, come dicevo prima, ha avuto bisogno del suo tempo per aderire al progetto, quello che andava benissimo, nel senso che ognuno poi ha bisogno dei suoi processi interni, ma con la piena adesione di scelta civica può anche darsi che ci sia un ripensamento del Partito Liberale, assolutamente benvenuto, naturalmente. Perfetto Niccolò, ti abbiamo sentito, c'è stata in questa sezione una piccola riunione operativa, un inizio di progettazione di una serie di lavori che ovviamente scandiranno tutta la campagna elettorale, praticamente tu hai detto in qualche modo che sarai all'attacco, nel senso che praticamente è una proposta per un'Europa diversa da quella attuale e quindi in qualche modo arriva la domanda perché appunto dovremo votare, votare te, votare l'Alde, Giverostat, qual è la proposta di cambiamento dell'Europa che propone? Adesso siamo in una fase in cui è tutto uno slogan, ognuno cerca di trovare la formula migliore, poi questa benedetta Europa la decliniamo in un modo estremamente fantasioso. A volte parliamo dell'Europa come una sorta di narrazione romantica, Spinelli, Stati Uniti d'Europa, eccetera, che è giustissimo, però non ci possiamo certo fermare a questo. A volte la consideriamo come una sorta di valvola di sfogo di tutti i nostri fallimenti nazionali, tutta colpa dell'Europa, corruzione, debito, l'Europa. La demonizziamo in questo modo. Poi diventa tutto un dibattito, euro sì, euro no, insomma tutto il dibattito si chiude in questo. Berlusconi che dice più Italia in Europa, meno Europa in Italia. Quell'altro che va a Bruxelles e dice noi non prendiamo lezioni dall'Europa, ci mancherebbero perché tanto siamo un paese che non ha niente da imparare dall'Europa, e non abbiamo proprio sempre le migliori pratiche di uso delle risorse, dei diritti civili, ma figuriamoci, qualche lezione forse dovremmo averla. Noi partiamo da questo presupposto. Uno, piaccia o non piaccia, piaccia o non piaccia, l'Europa è dentro la nostra vita, cioè il 70% delle leggi che sono in vigore in Italia sono leggi approvate in Europa. Poi sono trasportate, ma obbligatoriamente, insomma dal nostro Parlamento, ma non ha scelta se non trasportarle, introdurle nella nostra legislazione, ma sono leggi che nascono a Bruxelles. Le nostre politiche di bilancio sono inevitabilmente intrecciate dai vincoli europei e dalla dialettica con la Commissione. Non abbiamo una politica di immigrazione, una politica sul Mediterraneo o altro, se non legata a una politica europea. E il problema è che laddove non c'è una politica europea sufficientemente unitaria, noi ne paghiamo come Paese, pensiamo soltanto a tutta la questione dell'immigrazione, le conseguenze per primi. E poi, d'altro canto, se l'Europa, piaccia o non piaccia, è qui a scandire la nostra vita quotidiana, noi dovremmo anche avere la consapevolezza che l'Europa non è qualcosa di terzo, cioè l'Europa, ha deciso l'Europa, Bruxelles, come quando si dice piove, una cosa impersonale. No, l'Europa è un meccanismo dove tutti siamo equimamente rappresentati, dove ci sono degli organismi che prendono la decisione, sta anche a noi. Uno, modificare questi meccanismi in modo che siano più federali e meno basati sui rapporti intergovernativi, anzi per niente basati sui rapporti intergovernativi, che sono poi rapporti di forza tra governi, ma poi essere presenti, mandare alle persone che ci credono di più, che sono motivate, che sono preparate, che hanno una competenza. Tante cose avvengono in Europa, magari al nostro scapito, ma perché tutto sommato abbiamo lasciato fare agli altri, questo è il pane quotidiano purtroppo delle responsabilità. Diciamo che il Parlamento europeo è sempre stato storicamente in Italia un po' il luogo per i trombati nelle elezioni politiche, qualcuno da sistemare, qualcuno che ci si è anche pagato le spese mediche, perché hai avuto incidenti, insomma. Il Parlamento europeo per i politici italiani tradizionalmente è stata una scelta di ripiego. Posso dire che da quando però è finita la possibilità di cumulare mandati, quindi di essere ad esempio anche doppio parlamentare nazionale o consigliere regionale e parlamentare europeo, quest'andazzo è finito. Io devo dire che dal 2009 i parlamentari italiani hanno sicuramente un tasso di presenza molto maggiore, non parlo per me, perché io ho il 100% di presenza in plenare, ma voglio spendere una parola a favore di tutta la categoria dei colleghi. Insomma, in effetti è un lavoro forse poco conosciuto, demonizzato, non fanno nulla, stanno lì, strapagato, in realtà non è affatto vero perché prendono molto meno di un consigliere regionale oltre che di un parlamentare nazionale, poi è un lavoro in effetti oggettivamente complesso perché confrontarsi costantemente con una realtà complicata come l'Europa, avere a che fare con i nostri interlocutori olandesi, scandinavi, tedeschi, paesi slavi, ognuno con i suoi sistemi, le sue organizzazioni, con un paese che noi rappresentiamo, ma che è meno organizzato, tanto sistema Italia lo dobbiamo fare noi, voglio dire, al Parlamento europeo in assenza di una struttura alle spalle. Però non c'è dubbio che dobbiamo cambiarla questa Europa e ti dico, noi come lista scelta europea abbiamo proprio ragionato anche sul nome scelta europea, cioè scelta che cosa vuol dire? È proprio un atto, non è soltanto voglio l'Europa o la mia Europa, è un atto volitivo, ragionato, deliberato, quando si prende una scelta, si fa una scelta, ci si assume le conseguenze anche della responsabilità delle conseguenze, insomma è un processo molto più consapevole quello di scegliere qualche cosa, vuol dire anche ovviamente confrontare le varie opzioni quando scegli. E per noi una cosa è chiara, siamo nel 2014, abbiamo capito che cosa succede nel mondo o non ne abbiamo idea? Abbiamo capito che l'Europa è uno degli attori in un pianeta molto complesso e molto diverso rispetto a quello che avevamo, non dico nel tempo dei miei genitori, ma anche semplicemente 15 anni fa. Il vero vantaggio competitivo di paesi emergenti come l'India o come la Cina non è tanto la mano d'opera a basso costo, ci sarà anche quello, ma il vero vantaggio competitivo è che questi sono paesi con un miliardo e 300, 400 milioni di abitanti, un miliardo e 300, e hanno un ministro dell'economia, una politica estera, una politica di difesa, una politica ambientale e via dicendo. Noi siamo 500 milioni e siamo lì con 28 ministri degli esteri, 28 politiche del lavoro, 28 politiche fiscali, 28 politiche ambientali, così nella globalizzazione non andiamo proprio da nessuna parte. È chiaro che poi quando anche ingiustamente due soldati italiani vengono arrestati dagli indiani, ma non abbiamo nessuna forza, lo vediamo, per riuscire a risolvere una crisi che si trascina da tanto tempo. Se fossimo Europa, anziché Italia, le cose sarebbero sicuramente diverse. Se gli Stati Uniti sono capaci di spiare impunemente, non dico il cellulare di Niccolò Rinaldi, che magari hanno anche fatto, non so con che interesse per loro, ma della cittadina europea più potente che Angela Merkel, questo vuol dire che i nostri sistemi di sicurezza a 28 sono assolutamente decolabrodo, del tutto inefficaci. Insomma, noi nel 2014 questo lo abbiamo capito, abbiamo bisogno di Europa, non di gelosie nazionali e di distruttivismo costante del nostro paura, questo incedere nella preoccupazione, nell'angoscia che ci fa perdere probabilmente altri preziosi anni. Però questo non vuol dire difendere l'esistente. L'Alde, Verostat, scelta europea, non hanno una politica, come dire, difensiva. Hanno l'Europa, non ci toccate l'Europa, l'Europa per carità, manco per niente. Io sono più euroscettico degli euroscettici rispetto all'Europa attuale, perché io sono un'Europa brutta, intergovernativa, ripeto, lenta nei suoi meccanismi decisionali, senza slancio. Scusami se ti interrompo, adesso mi è arrivato un attimo una cosa che volevo chiederti, prima che me la dimentico. Ci saranno adesso le presidenze di turno, adesso mi sembra che c'è la Grecia, poi toccherà l'Italia. Non pensi che questa cosa sia una cosa estremamente anti-europea, sto giro di turno, estremamente internazionale e non trasnazionale? Ma certo, guarda che il sistema delle presidenze di turno, a parte che è complicato, voglio dire, sono tutti questi paesi che ogni sei mesi cambiano, per cui sono nuove amministrazioni che riprendono i dossier, fatto con un principio, per carità, rispettoso. Tutti a turno hanno la presidenza dell'Unione Europea, ma è un meccanismo che funziona in effetti molto male. Condominiale, assolutamente, giustissimo. Se noi avessimo, ripeto, una struttura basata più su un modello federale, non dovremmo ricorrere a questo circo. Pensa ai nostri interlocutori, i cinesi, gli indiani, gli africani, gli americani, i brasiliani, che ogni sei mesi si ritrovano un rappresentante dell'Europa distinto a livello di Consiglio. Poi, naturalmente, quello della Commissione rimane lo stesso, ma è un sistema che, voglio dire, fa ridere. Però vai a toccare il sistema delle presidenze di turno agli Stati nazionali, compresa tante classi politiche, probabilmente compresa tanti cittadini, e ah no, per carità, anche noi vogliamo avere la nostra presidenza. Adesso sarà tutta una manfrina di slogan in Italia, siamo noi sei mesi di presidenza, presidenza per... E quando in realtà non è che questo misura il tasso di europeismo di un paese o meno. Noi come paese andiamo a fare i presidenti dell'Unione Europea per sei mesi e con 120 procedure di infrazione, un primato a nostro carico, perché non applichiamo le normative europee, con alcune multe, tra l'altro, con il 50% dei fondi europei... Le nostre carceri che sono state dichiarate, praticamente, tortura. Sì, abbiamo utilizzato con le nostre carceri, ma guarda dire, carceri, diritti civili... Io a Bruxelles, tra l'altro, vedo un pellegrinaggio costante di italiani che vengono in un posto come Bruxelles per fare tutto, tutto, il ciclo della vita, fecondazione assistita perché in Italia non possono averla, divorzio breve, matrimonio tra coppie omosessuali, la morte dolce, no? Tutto vengono a fare perché... Abbiamo questo gap, allora forse quella... Colmare questo ritardo è la presidenza italiana dell'Unione Europea, no? Essere protagonista anziché essere sempre dietro. Però se abbiamo più bisogno di maggiore Europa, ti dico, noi, status quo, mai finito, questo status quo è indifendibile, ma nessun passo indietro al tempo stesso. Non possiamo nemmeno cominciare a dire, allora ritorniamo alle piccole monetine nazionali. Poi voglio vedere, una volta che ci confrontiamo con le grandi speculazioni finanziarie, con l'acquisto delle materie prime, dell'energia... Già abbiamo un'energia che è la più cara d'Europa, ma per problemi interni, non per distorsione del nostro mercato, non per problemi d'Europa. Ritorniamo alle monete nazionali, stiamo freschi, per cui nessun passo indietro ma riforme. Sotto questo profilo c'è un documento che è il manifesto dell'Aldecon, trovate sul mio sito, trovate sul sito di Scelta Europea, punto itto, punto eu, con le riforme economiche che noi proponiamo come lista, che sono, voglio dire, tra l'altro precise, il fondo di redenzione, la possibilità di avere un'assicurazione contro la disoccupazione e da pagare con un bilancio della zona Euro, in modo che partenere all'Euro diventi immediatamente vantaggioso per ogni cittadino, Euro Bonds, Euro Project, la possibilità, laddove sia condiviso con Bruxelles, di scorporare gli investimenti produttivi dal computo del debito. Sono posizioni storiche, voglio dire, del fondo di redenzione per il debito, che è una cosa importante, la parte eccedente del 60%, oltre agli altri aspetti, diritti civili, politica estera e tutto quanto, ma sono, voglio dire, cose che l'Alde ha sempre difeso in Parlamento europeo, ma che non sono mondo dei sogni, perché poi ognuno, come dire, se la inventa e racconta le rivoluzioni che vorrebbe fare in Europa, se uno mette sull'altro piatto della bilancia comunque la disciplina di bilancio, che oggi è ormai un elemento acquisito, anche qui piaccia o non piaccia in Europa. Se noi abbiamo disciplina di bilancio da una parte, possiamo sicuramente avere la credibilità per ottenere quel tipo di riforme. E poi quello che chiediamo è anche non soltanto Euro, non soltanto economia. Abbiamo bisogno, appunto, di un'Europa nei diritti civili, abbiamo bisogno di un'Europa protagonista nel mondo, come un attore di pace e come un attore portatore di valori. Oggi è il ventennale del genocidio ruandese, un genocidio che tra l'altro ha avuto delle responsabilità vere da parte europea. Mi piace ricordare, ricordiamoci, 800.000 ruandesi che si sono stati uccisi, utu, moderati e soprattutto tuzzi, in 100 giorni uccisi uno a uno a colpi di macete sotto gli occhi della comunità internazionale e con delle responsabilità, ripeto, dirette da parte di alcuni paesi europei. Uno come Guy Verhofstadt, primo ministro belga, quando era primo ministro belga, è andato a Chigali a fare quello che invece la Francia non ha mai voluto fare, cioè proprio un atto riparatore simbolicamente di richieste di perdono da parte del governo belga nei confronti del popolo ruandese. Anche queste vicende, stiamo parlando di vent'anni fa, sono proprio frutto di una non Europa, cioè di queste vecchie ingerenze di politica postcoloniale nelle aree di influenza, francofone per i francesi, Rwanda come ex-colonia per i belgi. Quindi anche un'Europa che non sia soltanto euro. Bene, Nicolo, io voglio farti soltanto un'ultima domanda rapidamente. Tu prima hai accennato a Rossi e Spinelli con il manifesto di Vento Teno come una suggestione un po' romantica. In realtà parlano di Stati Uniti d'Europa, Stati Uniti d'Europa. Noi qui oggi siamo stati nella sede del Partito Repubblicano, era anche doveroso, prima di parlare tu e abbiamo tutti ascoltato l'inno nazionale, tu giustamente hai detto magari la prossima volta anche l'inno europeo. Ecco, Stati Uniti d'Europa è romantico o è futuribile o è il futuro a cui aspirare? E quindi quando si parla di Stati Uniti si parla di superamento delle sovranità nazionali. Stati Uniti d'Europa, innanzitutto, quando io dico non possiamo adagiarci soltanto su questo tipo di narrazione, dico che in realtà poi bisogna far capire che l'Europa è vantaggiosa anche, è vantaggiosa per me, vantaggiosa per te, per un'impresa, per uno studente, per una famiglia. Cioè noi dobbiamo anche andare oltre un'idea, come dirti, di suggestione romantica appunto dell'unità d'Europa per renderci conto che senza Europa poi, insomma, siamo tutti fottuti, vuol dire inflazione, l'inflazione è la tassa più odiosa per tutti perché è la tassa che non ha nessuna progressione, che tutti pagano, un'inflazione del 7% è come un IVA del 7% e via dicendo. L'Europa quantomeno ci ha difeso dai flussi dell'inflazione in questi anni. Ma comunque, e poi tutto questo però è molto importante perché per fare politica, io credo, hai bisogno di volti, di competenza, ma hai bisogno poi di comunicazione, tutto quello che credi, hai bisogno anche di valori, di idee, di storia, di cultura. In una politica italiana che invece è tutto ormai slogan e appunto battute, anche trovate giuste, decisionismi un po' superficiali per cui non si vuole mai approfondire, l'importante è dare l'idea, mostrare che comunque qualche cosa si fa, annunciare più che fare. E invece noi crediamo molto anche proprio nel retroterra di valori, di idee e di storia. Questo alla fine paga. È un'idea romantica gli Stati Uniti d'Europa? No, è l'idea nazionale che è un'idea romantica. Non c'è niente di più da sognatori ormai che l'idea che si possa andare avanti con appunto 28 paesini, ognuno con la propria sovranità. Nel mondo d'oggi l'unica prospettiva realistica è gli Stati Uniti d'Europa, secondo me. E ci si arriva, io questo sono sicuro. Il problema è che con le esitazioni europee ci arriveremo probabilmente più tardi rispetto a quelle che potevano essere le premesse. Il fatto che ad esempio Francia e Paesi Bassi abbiano bocciato il trattato di Costituzione all'inizio degli anni 2000, ma quello ci ha fatto perdere 15 anni probabilmente. Se avessimo adottato quel trattato di Costituzione sicuramente saremmo in una condizione più matura oggi. E avremo migliori strumenti per interagire con la globalizzazione. Invece niente, quella fu un'occasione persa. Questo dipende da noi, non è dagli americani o dai complotti o d'altro. In realtà dipende dal corpo collettivo dei cittadini europei che oggi sono spaventati, prudenti, infelici, giustamente arrabbiati. Ma che dobbiamo un po' capire, dobbiamo tutti capire che poi questa nostra rabbia dobbiamo trasformarla in un'energia positiva verso quello che è l'unico progetto sostenibile per il futuro dell'Europa. Non un'Europa divisa, non va da nessuna parte. Quando sono stati i funerali di Nelson Mandela, voglio dire una piccola cosa, importantissima, voglio dire, ma 90 capi di governo e di Stato erano a Johannesburg. Una trentina di loro hanno parlato al memoriale. Da Cuba agli Stati Uniti. Non solo europeo. Non un solo europeo. Con l'Europa che è stata uno dei protagonisti delle sanzioni, della lotta contro l'apartheid, del sostegno al movimento di liberazione di Nelson Mandela. Insomma, noi quando andiamo lì a 28, siamo zero. Allora, gli Stati Uniti ed Europa, formula che tutti dicono, una serie di persone dicono, basta avete scocciato, che di un altro non succederà mai, eccetera. Insomma, io sono sicuro che è l'unica prospettiva realistica, non ideale o da sognatore. Ringraziamo Nicolò Rinaldi di essere stato con noi su LibriTV per questa lunga intervista in cui l'ho molto stressato. lo riavremo per parlare del suo libro in cui mette in parallelo il genocidio ruandese e la Shoah. È il libro che si chiama Shoah, Ruanda, due lezioni parallele. È questo qua, lo riavremo. Adesso dovremo soltanto organizzare su LibriTV una trasmissione. Nel frattempo lo ringraziamo. Nicolò Rinaldi, candidato per scelta europea, per Guive L'Hostat, ovviamente per l'Alde. Grazie Nicolò. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti.